E' domenica 10 gennaio e ci troviamo a Gorfigliano nel comune di Minocciano. Questo è uno dei paesi della Garfagnana dove il manto bianco è di casa, ma per ricordare una nevicata come quella d'inizio 2021 è necessario tornare indietro di alcuni decenni. Qui si parla già di una trentina d'anni passati, secondo me, a questi livelli molto di più. Me lo ricordo una nevicata forte, però io non è che tanti anni che ci sto, ma ai tempi delle nevicate belle io non ci stavo qui. Io non mi ricordo, non so, 83-84 o tre? Tanti anni, diciamo. Io ero un bibetto, tanto, tanto così, dagli anni 70. Questa nevicata ha causato tanti disagi, i più legati alla mancanza di energia elettrica, ma anche alla mancata copertura telefonica. Poi, sui social, si è aperta la gara delle lamentele, molto legata alla mancata spalatura della neve. Di certo, più facile descrivere un posto che ritrovarsi a spalare davanti casa e a questo riguardo il sindaco di Minucciano, Nicola Poli, ci ha segnalato un gran lavoro fatto dai giovani gorfiglianesi legati al gruppo di protezione civile. Ho fatto un bel lavoro. Stiamo cercando di aiutare i gioi vecchi del paese, con la protezione civile, levare un po' di neve, spargere un po' di sale. La situazione era un po' complicata. A volte, per limitare il disagio, basta poco. Ad esempio, la spalatura per raggiungere uno sportello bancomat. Ieri, io e gli altri ragazzi,